Abbiamo dato alla banda di Vianova, corrisponde un solo maestro, in effetti loro hanno due maestri uno dice dove c'è tutto, dice dove c'è tutto nel nome c'è tutto Maurizio Managò, che mi chiamano buonissimo, Maurizio Managò, vero? L'altro, il maestro Gaetano Pisano quindi la banda di Vianova ha due maestri per regolamento questo si può fare una banda può essere diretta da più maestri quindi, intanto lo dico alla commissione e alla segreteria per avere appunto due maestri Maurizio Managò e Gaetano Pisano un applauso alla banda di Vianova il primo maestro di tutti e il maestro Pisano Managò Brano di riscattamento poi? Una marcia sinfonica, va il nome? Sabina Sabina ma già l'avevo eseguita non fa niente e oltre a mano Brano obbligatorio che sarebbe l'un di maestri Ottolami poi l'altro Martel ah, manda il Tivallieri va bene e il bocca al mezzo grazie 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 grazie